Ciao, allora siamo qui con Mattioli, Maurizio, e la moglie, vi faccio vedere qua, che spettacolo, mamma mia che meraviglia, che meraviglia, ma che bello, grazie, ma grazie a te, perfetto, questo è certificato con le foto di riferimento, è filmato da me, ma mi piace proprio la videa, ma che bello questo, lo sfondo Mattioli che sta qui, bene, guarda che capustone, sta fuori, grazie a tutti Grazie a tutti